Sicilia Io credo che in Sicilia siano un pochino esasperati, quelli che sono i caratteri degli italiani in generale. Io vorrei dire che la Sicilia è Italia due volte, insomma. Tutti gli italiani sono siciliani e i siciliani lo sono di più, semplicemente. La Sicilia, non so, mi attrae per molte ragioni, forse perché è una terra veramente tragica e anche comica, ma soprattutto tragica. Vorrei che la gente uscendo dalla visione di questo film dicesse, è strana, abbiamo riso tanto e siamo spaventati.